Ormai la questione se si debba realizzare o meno questa nuova entità importante, diventerà una delle città più importanti in Italia, è un problema superato perché tutti hanno preso contezza e coscienza dell'esito di un referendum che c'è stato quattro anni fa e i cittadini hanno deciso che questo percorso si debba fare. Quello che ci lascia molto perplessi sono i tempi invece, cioè ravvicinarli, attuare già dal 1 gennaio 2022 una fusione che comporta una serie di processi, di articolazioni e di percorsi molto complicati che possono creare, se accelerati in maniera improvvisa, disagi soprattutto ai cittadini. Oltretutto si sono persi altri sei mesi da parte del Consiglio regionale, solo questa settimana registriamo un'improvvisa accelerazione da parte del Partito Democratico, quello stesso Partito Democratico che ha un Presidente della Giunta regionale che in questo momento occupa due posizioni incompatibili, quello di senatore e quello appunto di Presidente della Giunta regionale. Cosa comporta questo? Comporta che c'è il rischio concreto che atti importanti come quelli che potranno essere assunti proprio rispetto alla nuova Pescara possano essere nulli o comunque improduttivi di effetti, che un giorno qualcuno con l'autorità giusta possa dichiarare nulli questi atti e quindi dire signori abbiamo scherzato. Allora, il tempo è importante, le decisioni sono state assunte, però noi chiediamo di riflettere sul fatto che oltretutto due comuni entreranno in campagna elettorale già tra qualche mese perché si voterà a Pescara e si voterà a Montesilvano nel 2019 e quindi chiediamo che venga assegnato un termine diverso, lo chiediamo ai nostri consiglieri regionali ma lo chiediamo all'intero Consiglio regionale in virtù di questa serie di rilievi.